Comissario straordinario della FIGI CLN di Campania e Michele Affinito, Presidente della sezione Arbidi di Trattava Gioia Allora, Giazzetta, Pasquale Rosario, vieni, vieni, veloce del servizio assistente Giazzetta, Giacinto, assistente Falco e De Rosa Una foto di Arbidi, De Rosa Giazzetta, Giazzetta, Giazzetta Prego, tutti quanti, prego, un secondo, scusi un attimo, un secondo Prego, prego, più stretti Società, Angeli Scugnizi, un forte applauso, grazie Bravi ragazzi, bravi Allora, chi è il capitano? Chiuso il capitano Accosciati, accosciati, accosciati Abbassatevi un poco Abbassatevi un poco Ok Ok Un attimo, un secondo Alzzatevi Grazie Grazie Alzzatevi